Casse popolari di Largomartiri di Viafani che dovrebbero essere completate in primavera, ma oggi le famiglie che da quasi dieci anni attendono di poter tornare nelle proprie abitazioni hanno espresso il timore che possano verificarsi ulteriori ritardi. Una preoccupazione che hanno manifestato al sindaco Matteo Ruvolo, che proprio al nostro telegiornale qualche settimana fa, aveva invece manifestato ottimismo su un completamento delle palazzine nel prossimo mese di marzo. Secondo il Comitato di Largomartiri di Viafani invece, i lavori avrebbero subito dei rallentamenti. Ci sono pochi operai nel cantiere, hanno riferito oggi alla nostra emittente e visto l'annamento non siamo per nulla convinti che la consegna potrà avvenire in primavera. Eppure, dopo tanti problemi e ritardi registrati in quello che è stato definito l'appalto record, ovviamente negativo, l'impressa che si è giudicata ai lavori ha proceduto alquanto speditamente. A fronte dei timori manifestati, il sindaco di Libera si è impegnato a contattare l'Istituto Cassi Popolari di Agrigento e il direttore dei lavori per fare il punto e capire se effettivamente si registrano ritardi sulla tabella di marcia prevista. Peraltro, sempre recentemente, era stato superato il problema del contributo affitto e le famiglie interessate avevano potuto ricevere le somme relative all'ultimo trimestre del 2020. Contributo affitto che viene assicurato sin dal 2013, anno in cui gli alloggi vennero evacuati per poi essere demoliti e ricostruiti. Grazie a tutti!